Credo che un sacco di cose che abbiamo fatto le reputavo impossibili. In realtà probabilmente oggi la parola impossibile l'ho proprio cancellata dal mio vocabolario. Sono Dani, uno dei quattro fondatori di Dolly Noir. Dolly Noir nasce su una panchina esattamente come questa, probabilmente più brutta e mangiata dai cani. Quasi per gioco abbiamo fatto stampare le prime maglie e la scintilla è scoccata proprio quando abbiamo iniziato a vedere persone che neanche conoscevamo indossare i nostri prodotti. Cerco costantemente di portare nuove opportunità in azienda, gestisco le collaborazioni, il network di aziende che ci circonda e poi tutti i talenti che scegliamo per esaltare i nostri valori. Faccio davvero fatica a definire Dolly Noir un lavoro, è ciò che amo, ciò che mi fa svegliare carichissimo ogni mattina. Continuo a dare il 200% cercando di costruire un'azienda che ispiri e supporti i giovani a realizzare i propri sogni. Grazie. 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 Grazie.